E' un solo ordine regola il cielo e gli esseri viventi. Due uomini uniti come uno solo. Fratelli. Tra voi due c'è un solo re. Iniziamo subito con i rischi narrativi e produttivi di fare un film come il primo re, che è un film sì che si confronta con il mito, ma al tempo stesso tocca molto il genere. Abbiamo citato insieme prima Refn, ma anche un po' Gibson, un genere che gli italiani non sono molto abituati a masticare. Sì, diciamo che il rischio fondamentale che vivo io tutti i giorni è quello di vivere in questo paese, nel senso che questa è una cinematografia che esiste in tutto il mondo. Noi non siamo abituati a farla e non siamo abituati neanche a vederla con corde nuove, in qualche modo. Io il film l'ho fatto vedere anche a registi esteri che rimangono molto sorpresi dal realismo che abbiamo messo nella pellicola, che è poi figlio però, secondo me, della nostra realtà cinematografica. Cioè noi siamo una cinematografia capace di fare il realismo. E allora dico, prendiamo queste caratteristiche e portiamole in un'avventura, portiamole nell'azione, portiamole in una costruzione spettacolare che stravolge lo spettatore e lo porta da un'altra parte in una maniera completamente nuova. Tutto questo con una storia che ovviamente l'hai vista, ha una grande stratificazione, ha tanti livelli di lettura, ti scombussola anche in qualche modo rispetto a dei riferimenti che avevi. Tutto questo è assolutamente rischioso, però insomma si vede che amo il rischio, non lo so. La sfida più grande che in realtà ti sia posto con il film, che già il primo Renzi per sé è un film che è una sfida, ovviamente, però da un punto di vista proprio come regista, già con Veloce come il vento, secondo me, avevi fatto un salto enorme come regista, come narrazione, anche a livello di montaggio e di inquadrature. Con il primo Renzi invece qual era il surplus? Dov'è che dobbiamo arrivare? Ma diciamo che non vedo tutti i film con una specie di inseguimento verso chissà quale cosa. Il primo Renzi è un film dove appunto con gli sceneggiatori ho scritto una storia che aveva queste caratteristiche spettacolari, ma anche di racconto dell'antico, di racconto di un mondo che è diverso dal nostro, no? Un mondo, dicevo, dove a 360 gradi non vedi l'intervento umano intorno a te, sei in una natura che è una natura ostile, completamente ferina, arcaica, difficilissima, veramente esplosiva in qualche modo. Tutto questo però con un racconto sotto, che è un racconto sicuramente mitologico, ma che poi da quella base, da quella matrice, prende e ci racconta emotivamente che cosa significa per due fratelli, per due gemelli, avere un destino che li vede poi combattere, come dire, che dovranno combattersi l'un l'altro, ma che poi in fondo, come hai visto, partono da un sentimento di grande protezione, di grande amore, la grande storia d'amore poi di vicinanza fra queste due anime, un po' dello stesso individuo, che incarna le due visioni del mondo. Queste visioni vengono in conflitto e da questo si genera una contemporaneità nuova, che è quello che nel film avevo voglia di mettere in scena. Dato che il film si basa, anzi, più che si basa, parte da una storia importante, da un mito sul quale poi si fonda Roma, c'è però un simbolo che è mancato, ovvero quello della lupa. Io non mi aspettavo chissà che un flashback, visto che poi si vede il rapporto che loro hanno con la madre, perché Remo ha un paio di flashback, come mai manca... Ma diciamo che, allora, il mito ovviamente è noto per degli elementi che sono quelli più comuni da Wikipedia, diremmo noi, che appunto la lupa, Amulio, Numitore, Alba Longa, i gemelli, H.A. Larenzi, tutte queste parole, Rea Silvia, la madre, Marte. Noi abbiamo preso gli elementi archetipici, l'archetipo, che torna in tanti autori del passato che hanno parlato di mitologia. E in questo senso anche la lupa è la madre, nel senso è una madre, una natura primigenia che viene da un mondo non urbano e che in qualche modo protegge e lancia questi fratelli e questi gemelli verso un destino e verso un mondo che è quello appunto che vedremo raccontato alla fine del film. Lì dentro, secondo me, era giusto essere realistici era giusto veramente mettere in scena e incarnare quel sentimento che è un sentimento mitico. Quindi il film è la leggenda di Romolo e Remo come se fosse successa realmente. Roma inizia con Romolo e Remo e alla fine del Primo Re ci sono dei titoli di coda che però si ampliano, no? Noi sappiamo com'è la storia, però ci portano a vedere oltre. Ma il Primo Re potrebbe continuare magari con un media totalmente diverso che può essere la serialità, che sarebbe abbastanza interessante? Ma diciamo che potrebbe continuare in tantissimi modi. Sicuramente se uno dovesse affacciarsi alla serialità su un film del genere dovrebbe prendere la storia da un altro punto di vista. Nel senso che qui era molto forte l'unitarietà di questa narrazione. Il fatto che parliamo di due fratelli che devono proteggersi e che vivono un'avventura che li vedrà in qualche modo affrontare un destino per loro assolutamente sconosciuto, impervio, difficile e complesso. La mitologia di questa storia, no? Quello che scrivono Ovidio, Plutarco, Strabone, Livio è un po' una serie, nel senso è un argomento molto più esteso, molto più complesso e chissà, magari un domani. Quindi ci stiamo pensando forse? Beh, mi piacerebbe, sì, diciamo che ho un progetto che però non è assolutamente la serie del primo re, è semplicemente, o in maniera complessa, una esplosione del racconto mitico in un'altra chiave molto diversa da quella del film. Perfetto, ti ringrazio. Fonderà un impero nuovo come mai il mondo ne ha conosciuto e come mai ne conoscerà negli anni a venire. Sic ti ripetendo il tieni. Questo chiedono gli dei. Grazie a noi.